Ciao a tutti, sono Mr. Rain, sono qua oggi a Radio 105. Allora, la top 3 dei miei videogiochi preferiti è sicuramente Crash, Sonic e Dragon Ball. Il mio primo approccio con i videogames è stato quando ero molto piccolo, avevo una Playstation 1 e il primo gioco, ricordo, era Crash. Se fossi un personaggio dei videogiochi sarei Spider-Man. Quelle poche volte che riesco a giocare non ascolto musica, perché sono troppo preso a giocare e mi incazzo spesso, quindi zero musica. Mando un mega saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 105 e ci vediamo presto, spero.